Una delegazione della Repubblica Popolare Cinese è stata ricevuta a Palazzo Lascaris nell'ambito del progetto di cooperazione dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali della Regione Piemonte. Nell'incontro è intervenuta anche la Vice Presidente della Commissione per le Adozioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Daniela Bacchetta. È stato ribadito come l'adozione internazionale non sia l'unico strumento per aiutare i bambini in difficoltà, ma l'ultimo passo da considerare qualora non si possa aiutare il minore nel suo paese d'origine. La collaborazione nel campo adozione internazionale tra la Cina e l'Italia è iniziata dal 2008. Comunque in questo periodo breve abbiamo già aiutato più di 500 bambini cinesi a trovare una famiglia italiana. Questo è un buono risultato. Comunque crediamo che anche in futuro questa collaborazione sarà a avere una migliore prospettiva. Comunque abbiamo un principio comune di tutti i bambini devono avere una famiglia. La Cina è diventato un nostro partner molto importante a cominciare dal 2009 quando ci sono state le prime adozioni e adesso ogni anno si sta rinforzando sempre di più questa collaborazione, tanto che a questo punto siamo arrivati nel corso di questi anni ad arrivare a più di 500 bambini adottati dalla Cina.